Sono degli amici miei sordomuti, mi stanno chiedendo che sono sordi, sono interessati alle idee di Beppe Grillo, però hanno difficoltà a capire quello che dice, quindi sarebbe interessato a un interprete quando lui è in televisione o nei teatri o in questo caso a Torino di un interprete, è un movimento di 33.000 persone e molti sono interessati alle idee del movimento, è un movimento politico che gli serve anche perché loro hanno diverse esigenze che molte volte lo Stato italiano non riesce a soddisfare. Esatto, se si riesce a ottenere questa cosa, tra di loro con gli sms riescono a comunicare velocemente e possono coinvolgere tutto il movimento dei sordi d'Italia.